Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quante volte vi è capitato di trovarvi davanti alla difficoltà di non riuscire ad abbinare perfettamente come vorreste voi una borsa, un accessorio ad un capo di abbigliamento? Tantissime volte immagino. Beh, Tessiland finalmente vi offre la soluzione perfetta a questo grandissimo problema. Signore e signori, il Rowen. Analizziamolo nel dettaglio. Ecco il nostro cordino lucido per borse e gioielli, ma come abbiamo detto prima anche per abbigliamento. Si presenta così in rocche da 200 grammi per una lunghezza di circa 250 metri. Lo spessore è abbastanza sottile, di circa 1,4 mm, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 3-4 oppure dell'uncinetto 2-3. Ma veniamo alla composizione di questo fantastico Rowen. Allora, perché? Perché il Rowen è composto per il 60% da cotone e 40% poliestere. E queste due composizioni sono perfettamente incassonate tra loro, come potete vedere qui proprio da una parte che abbiamo estratto, attraverso una costruzione a spirale, nel quale quindi vi è il cotone per l'appunto avvolto dal poliestere. Cambierà ovviamente da colore a colore. In alcune il cotone avrà una colorazione proprio in contrasto con quella del poliestere, in altre invece ci sarà un tono su tono. Ma diciamo che questa particolare costruzione a spirale del Rowen potrà senz'altro fare appunto intravedere quest'anima di cotone, che però è da considerarsi caratteristica e non difetto dell'articolo. E a proposito di colorazioni ce ne sono davvero tantissime, quindi iniziamo subito a vedere le prime quattro varianti di colore. Qui abbiamo smeraldo, royal, notte e nero. E proseguiamo con militare, acido, verde, prato. E andiamo avanti con fucsia, amarena, rosso e arancio. Continuiamo con delle tonalità davvero molto molto delicate, vale a dire glicine, cipria, pesca e rosa. Vediamo il penultimo quartetto, vale a dire naturale, crema, rame ed oro. E concludiamo con gli ultimi quattro, vale a dire azzurro, perla, bianco ed acqua. Ben 24 varianti di colore, sono davvero tantissime, quindi finalmente con il Rowan presente oggi potrete realizzare bijou, accessori, borse, ma anche abbigliamento, grazie proprio alla presenza del cotone. Quindi in qualsiasi occasione, che possa essere un'occasione speciale oppure una classica giornata lavorativa, potrete realizzare il vostro capo di abbigliamento perfettamente in pandan con il vostro accessorio. Insomma, sicuramente un articolo che non potrà mancare nella vostra personale risorsa Tessiland. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. E noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao! Ciao!